E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Stef, che ci giochiamo a Minecraft E oggi siamo qui con una custom map chiamata A Giant Quest, in cui il nostro obiettivo Sarà quello di sconfiggere un enorme Drago che, come si vede già dalla finestra È già qui pronto a romperci le scatole, Stef È già qui pronto a sbranarci, lo vedi? Solo il suo piede è grande quanto me, Fede Sì, è molto grande, però... È un drago, cosa ti aspetti? Che un drago sia alto così? È molto alto E lo so, però preferivo qualcosa di un po' più Abbordabile, di sicuro E voglio scommetterci proprio subito, subito, subito In qualche modo anche noi diventiamo giganti Perché comunque, se la mappa si chiama Giant Quest In qualche modo diventeremo giganti anche noi, Fede E allora a quel punto Il drago lo prende a pugni, proprio Un sinistro-destro, Fede No, tu comunque non sai combattere Lui ti può sputare fuoco, quindi Sai com'è, Stef? Secondo me non basta Solo essere gigante Vedremo, vedremo, vedremo Ma aspetta un attimino, che prima lo guardo un po' Ma secondo te è pacifico? No, ma sicuramente non lo è Eh, ma dico, c'è, esco fuori... Allora, da quando in qua sono pacifici Ma, dico, esco fuori in metà casa subito O almeno ci pensa un po'? Non lo so, tu esci, Stef Io esco, io... Dai, goditi questa avventura Non proprio tranquilla, però esci Buongiorno, sì, salve, salve, sì Sono io, Stef, sì Cosa desidera? Ha un po' di posta? Basta, dai Allora, ok Ci vuole anche parlare, Fede Ciao, insignificante, Stef Questo non l'ha detto malattro Ciao Io mi sono presa la libertà di sfruttarti Ok, ok Mi sembra equo Allora, sono tornato qua per il mio affitto mensile Allora, lui vuole soldi ogni mese Come lo chiamiamo? Affitto mensile? Chiamiamolo affitto mensile Per il mio affitto mensile Ok Allora, hai due ore per portarmi qui 800 lingotti d'oro Ok Altrimenti distruggerò tutto il villaggio Quindi è un po' nervosetto Il giugno è svegliato con la luna a torta È arrivato qua, capito? Non ho dato Eh, quindi, sì Non è molto, molto propenso neanche ad ascoltare Scusa, mi sembra Perché lui vuole questi soldi Che noi penso che neanche abbiamo Aspetta, aspetta Vado un attimo a controllare Allora Tu vedi 800 lingotti Sinceramente non me ne ho manco una cesta Quindi ne abbiamo neanche una di gold Allora, però C'è un però C'è questo villaggero Nostro amico Qui alla sinistra Che dice di seguirlo Probabilmente ha una soluzione Per evitare che il nostro villaggio Venga demolito Sicura? Non mi sembra molto affidabile Vabbè Andiamo, andiamo Ti seguo, ti seguo Dove mi porti di bello? A casa sua A casa sua Eh, perché lui ha il piano adesso, capito? Il piano che ti deve esporre in segreto Piano piano Sono il drago C'è anche lo zoom C'è anche lo zoom Il drago gigante è tornato L'abbiamo visto E noi ovviamente non abbiamo questi 800 lingotti Ovvio Però, però, però Questo nostro amico villaggero Ok Ha condotto degli esperimenti nel suo laboratorio Quindi ci dice che praticamente Ha una soluzione Ok È riuscito a cambiare La stazza di tutti gli oggetti Però diciamo che questi esperimenti Non sono andati proprio bene, Steph Perché l'ha provata su animali piccoli Che sono tutti morti Ok, posso rifiutare subito Villaggero? No, scusi Mi sa di no Perché dice Sarà rischioso Ma non è che abbiamo altra scelta Quindi ti dà marcia Per, 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 per Aspetta, aspetta, aspetta Questo me lo vuole tirare in faccia Adesso guardalo Esatto, esatto Vabbè Per fortuna tu non sei morto Come gli animali del laboratorio, Steph Quindi Sì, ma Allora Vedi il lato positivo Almeno nella realtà Quando ti vogliamo fare un esperimento Ti chiedono il permesso Devi firmare Questo mi ha tirato una pozione in faccia A priori Che maleducato Steph, secondo me Solo due ore Per risolvere questa situazione Quindi bisogna essere molto rapidi Qui, capito? Dunque ci dice che siamo finalmente diventati dei giganti Che la nostra missione è quella di amassare il drago E lo sapevamo già E che per farlo Dobbiamo trovare delle armi E anche un modo per farlo addormentare Perché probabilmente Anche se siamo giganteschi e armati Se lui non dorme Non siamo in grado di sconfiggerlo Eh certo, certo Penso che da sveglio ti demolisce Beh, fiammate Sono già secco Esatto Fai vedere quanto sei gigante Allora Allora, così non si vede molto bene Ma quando è così Secondo me si capisce Oddio, è tutto buio No, sì, ma Vedi, guarda Qua c'è un albero Guarda quanto sono più grande dell'albero Eh, sì Eh? Hai paura, Ferre? Eh, più o meno Non incuti molto di cuore Hai paura, Ferre? Eh? Mi stai guardando Fa più paura al drago Vai, vai Hai paura? Eh? Oltre alla nostra fantastica arma Il nostro amico ci ha dato una mappa Credo che ogni X Indichi un punto dove noi possiamo trovare qualcosa di utile Quindi andiamo in ordine Cerchiamo di andare in tutti i posti Scusa Ma questo è il nostro villaggio, Ferre Ah, segna solo il villaggio È dove c'è il drago, capito? C'è a Visa Perché magari poi non lo ritrovi Per il drago Fai una figuraccia Però, se ricordo bene Qui c'è il primo posto Ok, vediamo Uh Ah, ok Questo è un castello È il castello di Weinstorm Ok E può essere distrutto Soltanto col piccone Noi non abbiamo un piccone Noi abbiamo un'ascia Quindi se io faccio così Non lo posso rompere Ok Ok, quindi vuol dire che questo castello Per adesso lo dobbiamo lasciare Dobbiamo andare a cercarci qualcos'altro Di qui, andando tutto dritto C'è qualcos'altro Andiamo a vedere che cos'è Ho notato pure che c'è una zona Uh, ma tipo salire è facile Vabbè, sono un gigante Eh, certo Strafacile Guardate come scalo le montagne qui Tra bello Poi stai su Minecraft Ogni volta come devi scala le montagne Guarda ora, cosa c'è qui? Uh Che cos'è? Abbiamo trovato una miniera di ferro Una miniera di ferro Ok Cosa? Prendi tutto Steph Oh Prendi tutto Ok Allora Guarda Piccone Trenta lingotti di ferro E trenta iron ore Ok Ok Però dato che ne abbiamo il piccone Io torneri subito indietro Nel castello A fare, certo Per solutare il piccone Distruggere il castello E vedere che cosa ci dà Comunque che figata che distruggi tutto E fa esplodere No, è carina come idea Quello di essere giganti In un mondo che siamo abituati a vedere Sì Ha grandezza naturale Mettiamo Vado Quindi è molto bello Vai Vado Vai Ok Cosa? Oh Ecco qui si ragiona Steph Una bellissima spada Esaminala bene Vediamo un pochettino Allora Se va bene un sacco di col Aspetta Ha una descrizione che non riesco a leggere Perché abbiamo Però dice sleeping dragon Esatto Postala il più Aspetta E che cavolo Mi dà fastidio Leggo Cyclops Quindi i ciclopi Forse c'è qualcuno da affrontare Un ciclope da affrontare Forse questa spada ci permette di sconfiggerlo World of justice Comunque Dovrebbe essere l'arma che ci permetterà di addormentare il drago E dopodiché sconfiggerlo Quindi un ottimo passo avanti Allora adesso dove dobbiamo andare? Io andrei nel posto innevato perché sono curioso Sì dai vediamo Vediamo un po' cosa troviamo E mi tengo quest'arma però mi sento più al sicuro Eh sì per spaventare chiunque si presenti Chi vuole venire eh? Chi vuole venire? Spipipipi Non ce l'avamo accorti che ce l'aveva scritto in chat e tutto Come sempre ci accorgiamo Che bravi Vabbè comunque dice che è una spada che ci permette di ammazzare diciamo i diavi I mostri cattivi Perché evil monster potremmo tradurlo così Però ovviamente ci dice che il drago se non dorme appunto ci fa una fiammata di fuoco e ci stende Quindi comunque dobbiamo trovare un modo per farlo addormentare Quindi secondo me noi troveremo una sorta di pozione Però aspetta No mi stai dicendo che magari ci sono altri mostri che incontreremo Perché se dice che puoi uccidere i mostri vuol dire che qualcuno li incontreremo Potrebbe essere Fede potrebbe essere Guarda 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 Ok Posso utilizzare l'ascia per distruggerlo Mi dispiace perché è un villaggetto carino carino Però Un pesce C'ha dato un pesce Non è che il pesce lo fa normalmente Dici pesce magari lo fa Ma perché non li dobbiamo leggere Credo Aspetta Fammi Ho ragione Che cosa? Non ti sto capendo Che vado più veloce quando tengo questo pesce in mano Guarda così Ok? E guarda così Sì Vero? Forse Perché se tu leggi un pochettino Faster while holding this F Chi è? Mi sta guardando Ah ma ma Ah il ciclope Ecco perché parlavano di ciclope Noi non leggevamo Ma ecco perché Tu Ho fatto una paura Mi vuoi davvero affrontare Ma sei sicuro? Uno con un solo occhio Guarda Se mi muovo così Non capisce più nulla Fede guarda 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 Non capisce più nulla Vede 5m F Lo sto ingannando Poi attacco all'improvviso Spim Vado a arrabbiare Spim Ma non attacca Quanto sono potente eh Quanto sono potente Basta vattene premuto Ti stavi gasando Per uno che non ti ha neanche risposto Siccome ti ha visto Tu sto gasato E ho detto no Io questo neanche Neanche lo attacco Sinceramente Aspetta Ferri Aspetta 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 Ken Ken No aspetta Allora Mettilo tipo giù E cerchiamo di leggere Tra il resistance Capito Ecco così Il più giù Non riesco a leggere Steph Te lo giuro Ken Vediamo un po' Vabbè Abbiamo Una mazza del ciclope Ok Diciamo che alla fine Anche questi sono Mezzo indizi Devi capire anche lì Cosa vogliono dire Queste cose un po' Che non si capiscono Vabbè dai Sarà più interessante Fare questa Giant Ferre Ferre Che c'è Ho buttato questa Per spazio No Non ti permetterete Guarda che figa È gigante Ok Allora Di qui Dovrebbero esserci Gli ultimi due posti Ok Non so che cosa ci aspetta Però sicuramente Ci serve ancora la cosa Per far addormentare il drago Qui abbiamo una sorta di torre Ok Che posso distruggere Utilizzando la nostra mazza Bussola Bussola Non è la bussola Non è la bussola Questo è un potere magico Eh sì Oh mamma mia Ma Ferre Ma sono pipistrelli Oh Steph Abbiamo fatto un disastro Che succede Non lo so Adesso vediamo però Ci è fatto caldo Ora possiamo vedere tutto Ci possiamo girare intorno E vedere tutto quanto Guarda il drago Sta dormendo Sta dormendo Sta dormendo Steph Il drago si è addormentato Ok Probabilmente Era una sorta di Incantesimo Che a noi permette Di vedere meglio E che nel mentre Allo stesso tempo Fa addormentare il drago Però visitiamo anche L'ultimo posto Beh ormai Ce ne manca solo uno Scusami Voglio sapere cosa c'è Vediamo Un tempio Eccolo Ok 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 Un tempio nel deserto Con cosa possiamo distruggerlo Questo? Con la nostra ascia E cosa ci dà in più? Ah 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 Spostati Spostati che questa Sarà un'esplosione Stragigante No ok È stata abbastanza contenuta Ok Cos'è? Che ci ha dato? Ma qua posso distruggere? Sì puoi distruggere Tu quello che vuoi Ok Che cos'è questo? You are able to Bla 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 Oppure sei Unable to Ok Allora prova Prova a tenerla in mano Perché dice While holding this Quindi Ah You are able to see the world While holding this You are unable to move While holding this Ok però Con quell'incantesimo Vediamo già tutto qua Non lo so Sta succedendo qualcosa di strano Steph Non sto capendo bene Ti dico la verità Andiamo Non c'era bisogno di buttarla Però Andiamo Guardatelo Il drago è lì Sta dormendo Lo prendiamo alle spalle Fere Perché così Siamo proprio vigliacchi Non ci può tirare Neanche una chiamata di fuoco Andiamo lì alle spalle Lo prendiamo da qua Tagliali la coda Oh cavolo Oh cavolo Steph Secondo te si è arrabbiato? Fere Ma te è sconfitto Non lo so Non era un bello spesso Oh mamma Ma potevano evitare Però di far Sta che sto tristissima Ok Ok Allora Posso prendermi l'ala? No Scusate Scusate Sono peggio del drago No io Io ci stenevo a dire una cosa Sì Innanzitutto Le hai colpito E è uscito un sacco di sangue Prima cosa Seconda cosa C'era bisogno di farlo esplodere In pezzettini Cioè Ok che era un drago cattivo Però a me i draghi Comunque piacciono Cioè farli esplodere Aspetta Che cosa Ok 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 Steph Ok va tutto bene Va tutto bene Steph Ok che ci ha detto Bene la mop è finita Adesso ti puoi divertire Nel mondo in creative Però qui stai un po' esagerando Steph Puoi tappare il buco Steph Mi dà un po' Un po' di noia Quel buco là Aspetta 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 Ma In effetti Eh Sì Sì Ma non ti ha fatto niente La mucca Prenditela con gli altri draghi E quanto è resistente Molto Oppure questa spada può ammazzare soltanto Ok no No può ammazzare magari più lentamente Fa meno danno Però può comunque ammazzare Sono peggio del drago Sono peggio del drago Io distruggo tutto Me l'ha scritto Praticamente in poche parole Il potere ti ha un po' dato alla testa E tu hai distrutto il tuo villaggio Hai ucciso i tuoi amici La tua famiglia E i tuoi vicini Ok Ok Bene vado Addio mondo Senti c'è un like E sempre una volta che avete il nostro video Potete considerare il video Iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao